Ciao a tutti da Tiger, siamo ad un nuovo video di WWE 2K24 e oggi siamo in una nuova avventura, tra virgolette, perché andremo a fare una bella serie di live event in cui abbiamo tanta roba da sbloccare, tra cui un bel pacchetto da 21.000 monete. È un evento molto facile, ci dobbiamo anche un po' sbrigare perché poi praticamente uscirà anche Dragon Ball, il 10. Quindi mancano praticamente pochissimi giorni. Esce anche Dragon Ball, quindi lasci farlo dei video, delle live, non lo so, adesso vediamo. Quindi questo gioco non so fino a quanto ci giocheremo ancora, anche perché ormai è diventato abbastanza monotono, le carte belle stanno uscendo. È come FIFA, è come FIFA quando cominciano a uscire i Toti. Una volta che sono usciti i Toti, perde il valore. Allora, non è niente di difficile come potete vedere, perché comunque dovete fare anche 60.1, insomma, manco 90. Quindi penso che non è neanche una difficoltà se è stata su un leggenda. Quindi è abbastanza facile, fatevi due insulti, destra e sinistra, le tre cittine. Quindi Folla è avversario e vi avete fatto i 3 gol. Poi fate la nostra speciale, la finale, e avete fatto. E poi ovviamente sicuramente qualche altro punto lo fate normalmente dando dei pugni. Per esempio questo, cacca di genere. Ok, ma fregato. E in un caso basterebbe solo una mossa speciale. E possiamo già direttamente chiudere il match, perché comunque già con una mossa finale va giù, perché essendo Gold, con una carta diamante, diciamo, si spiega già da sola la cosa. E vabbè, pure lo schieramento è ridotto. E basta. Direttamente di fare la finale, bisogna perdere tempo. E chiederlo. Vedete, è abbastanza semplice. Basta soltanto perdere un po' di tempo. Vi potrà... Non lo so. Giusto 2-3 minuti al match. Giusto 2-3 minuti al match. Basta eriscere la fine. Ja. Ok, il livello 3 l'abbiamo presa tutte. Poi dobbiamo fare praticamente altri 6-7 match. Non guarda l'ho trovata di palle, lo so, però... Non ho comprato il pacchetto di LC, sinceramente, perché è buono. Sì, sono carte diamante, però non ci vedo la necessità. Quanto dura? Questi due giorni ancora? Ci penserò. Ci penserò su... Ah, ma io ce l'ho questa. Raga, io ce l'ho questa carta e non lo sapevo. Dura 12 giorni. Scott's time. Poi andremo a fare anche Scott's time. È un altro video. Sostituiamo di fare questa. È una sorpresa, sono fallicissimo. Porca troia, sono felicissimo. C'è una roba da fare allora. Almeno una gioia ogni tanto arriva. Fals-Count-Anywhere matchers are the definition of unpredictable guys. We could be in for anything here tonight. That's true, Michael, but I'm sure these superstars have some thoughts in mind already. Some interesting locations they'd love to drag this fight to where they can really up the inning. Oh my goodness! Oh my goodness! And that was a successful bit of offense with that maneuver. Oh my goodness! It's dangerous, constantly lurking in a no disqualification match. Interference has to be a concern for these superstars. While it certainly can be a factor, I don't think it should be a concern. The only thing that you should be concerned about is getting whipped. Vediamo subito gli attacchi leggeri. Conviene fare così. Perché così ho trovato un metodo ancora più facile. Subito continuare a picchiare fino a quanti vi dà i punti per gli attacchi leggeri. Pari due insulti. Tordirlo. E' un mossa finale. Così. I'm going to come subito. E poi si vede proprio che questi sono dei match che sono stati proprio fatti per darti un po' di pacchetti, un po' di monete, un po' di punti. Diciamo che una cosa del genere la vorrei avere almeno una volta a settimana. Sì, proprio una volta al match sarebbe un po' troppo. Cioè, sarebbe troppo poco. Almeno due volte a settimana ci vorrebbe. Io direi che dopo questo match possiamo tranquillamente... Magari vi taglio le parti, soprattutto quando prendo le ricompense, che è una cosa carina. E poi ci vediamo direttamente alla fine. Perché farvi vedere sempre la stessa cosa. Ormai sappiamo che così è di difficile. Non dovete vedere nessuna tecnica particolare. Basta continuare a fare così come sto facendo io. E si fa tutto tranquillamente. No, non dovete vedere nessuna tecnica particolare. Alla prossima entrare a tutti. Grazie a tutti. www.mesmerism.info 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 lo avevo previsto ci ha dato direttamente il pacchetto vabbè lo andiamo ad aprire tanto alla fine le ricompense che volevo le ho prese tutte anche perché i punti cioè i punti a che cazzo servono i punti sapete a che cosa servono per comprare ste merde che è sì e no forse ne riuscirò a comprare una con i punti limitati queste che me ne devo fare se ho già carte diamante guardate quanti punti ci vuole 150 questo per esempio è stato veramente un fallimento quest'anno questo è proprio una pagliacciata comunque vediamo ai pacchetti apriamo prima i cosmetici questi fanno comunque sempre numero quindi va bene no se bacchetti ok vediamo la merda che esce ma insomma ha fatto lo 92 però abbiamo preso una carta diamante dai ha fatto lo sforzo su questo qua che non so chi cazzo sia perché è una carta creata però la determinazione pare che c'è pure qualche perk buono vabbè dai non ci è andata malissimo 22.000 possiamo prendere anche un altro pacchetto gold si lo compriamo dai ci ha dato pure un bel po' di soldini ne compriamo un altro sempre se va mannaggia quando scarichi gli aggiornamenti 23.400 e ora ci arriviamo e lo compriamo qual è il problema forse adesso possiamo fare anche un'altra cosa vediamo un po' non possiamo fare niente vabbè facciamo una cosa ci vediamo al prossimo video che facciamo scott steiner così magari se arriviamo a 23.000 qualcosa compriamo pure un altro pacchetto gold di quello là ok per oggi è tutto ci vediamo alla prossima ciao a tutti da tiger ciao a tutti